Questa settimana in Italia assistiamo ad un lieve miglioramento della situazione epidemiologica con un RT che scende a 1,08, la scorsa settimana era intorno a 1,16 e l'incidenza che va al di sotto del 250, intorno a 240 per 100 mila, rimane però decisamente elevata. Per quanto riguarda il tasso di occupazione di area medica e dei posti di terapia intensiva purtroppo invece abbiamo un aumento dovuto al fatto che nelle scorse settimane si sono accumulati molti casi di Covid-19. Infatti il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è intorno al 39%, quindi più elevato rispetto alla scorsa settimana. Data la situazione bisogna continuare a mantenere le misure di prevenzione e controllo e soprattutto accelerare la campagna vaccinale per immunizzare quante più persone possibile. Grazie.